Kostic con l'esterno per Ken, posizione regolare, va la Juve, attenzione al 3 contro 3, Ken punta la porta, va Moise, Ken può rientrare sul destro, Ken, 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 Ken! La palla termina fuori, grande occasione per la Juventus con Moise e Ken dopo 5 minuti. Kostic a rimorchio per Fagioli e la parata di Provedel la va a bloccare con mezzo brivido. Milinkovic-Savic se la allunga, rabbio gliela strappa via, lungo il pallone a cercare Ken, va la Juventus, Ken, Ken, Ken il pallonetto di Moise! La Juventus è in vantaggio! Moise e Ken va ancora a ballare per la seconda gara consecutiva, sotto la curva, Juventus 1, Lazio 0! Milink ancora, Milink vuole calciare, Milink! La parata di Provedel sul primo palo, grande occasione per la Juventus! Non è finita, Locatelli, Locatelli! Provedel la blocca, i due tempi! Giocatore della Lazio, poi Milink va e recupera Locatelli di prima intenzione dall'altra parte per Kostic, va la Juventus per il raddoppio, Kostic, Kostic! Kostic, la parata e poi Ken! Il raddoppio della Juventus! Il tapì vincente di Moise e Ken! Ripartenza straordinaria della Juve! 5-4esimo minuto! Moise e Ken! Non ne ha fatto uno, ne ha fatti due! 2-0 per la Juventus! Ken ancora, le vicino c'è Milink, Ken, 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 dribbling! Ken! Provedel! Vicino alla tripleta personale, Moise e Ken! Quadrado, Punta Marosic, finta contro finta, Quadrado, il dribbling! Quadrado! Provedel con i piedi! Non è finita, faccio lì di prima per Locatelli! Locatelli! Tiro ribattuto! Lì vicino per Chiesa, grande idea questa per il 7! Chiesa in mezzo! Al gol di Arkadius Milink! 89esimo minuto! Juventus 3, Lazio 0! Gioco! Partita! Incontro! Arkadius Milink! 3-0 per la Juve! Andiamo a rivederla con la palla di Di Maria per Chiesa! Chiesa in mezzo! Milink di prima intenzione con il sinistro che è andato a battere prove del... Lazio, tiradora in 14 giornate ma ha preso 8 gol! Stasera ne prende 3 dalla Juventus! Felipe Andersson vuole calciare, viene chiuso ancora lui, Felipe Andersson! Poi la conclusione! Sopra la traversa Vessino! Vicino al gol! C'è una deviazione, calcio d'angolo! Fagioli, poi nuovamente Felipe Andersson può calciare! Calcia in porta! Schesty! Parata straordinaria! Calcio d'angolo! Finisce qui la partita! Juventus batte Lazio! 3-0! 3-0! Grazie a tutti